Musica Politica di gestione dei rifiuti a Niscemi, nel cui centro del Niseno, la percentuale dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata ha toccato la soglia del 40%. E non è tutto perché in un momento in cui in Sicilia è attesa la riforma degli Ato, la regione siciliana e il comune Niseno ha concesso perfino una premialità di oltre 160.000 euro. Premialità che consentirà ai cittadini di decurtare l'imposta sulla tassa dei rifiuti. Siamo al 40%, io spero di arrivare al 50%, a fine anno. Quest'anno ho messo in tasca a Niscemi il 7,50%, il prossimo anno spero di arrivare a mettere in tasca un altro 15%. La regione siciliana ha dato una premialità di 165.000 euro quest'anno. Io spero che il prossimo anno Niscemi ne possa ricevere ancora di più. Ci stiamo lavorando. Nel salotto della cittadina si erge un maestoso albero di Natale che a primo impatto crea l'effetto di un albero in cristallo. In realtà trattasi di semplici 2700 bottiglie in plastica, nonché frutto di un lavoro a costo zero che ha visto l'impegno di un artigiano che ha donato l'impalcatura in ferro e di tante donne della città che hanno legato minuziosamente tutte le bottiglie. È bello, è stato costruito con 2700 bottiglie da un artigiano e da mamme di famiglia che hanno dato la loro disponibilità. Vi invito ad ammirarlo.